Quindi, cominciamo, un passo in avanti, un passo in lì, un passo laterale a sinistra, un passo laterale a sinistra. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Non ho fatto questo! Poff! Fatto il passo diretto! Perché è la mia abitudine, ho sempre fatto questo! Quindi, questo è il mio spazio, il mio spazio è diventato abitudinario! Anche nella scuola, ho creato, si dicono, mappe e motori. Più esercizio ho fatto durante la mia carriera, più esercito, più esercito, più arricchisco ed escono all'innovazione. Quindi non lo fate male! Non serve! La scuola è Dire di sia di inizio, subito, guadiro... emanciata in passantire! Vieni, via se lì, finita! Ma chi hovering? Ma non! Dai dai! Adesso! Dai! Forza Gabi! Forza Gabi! Forza Gabi! Dai che ce la fai! Vieni a sinistra e parti di destra, dai spiazzalo subito, scivola a tosto piede, scivola a tosto piede, non ti buttare la precedenza, 10 secondi capri!